Ipo è l'associazione italiana dei pneumologi ospedalieri che si occupa da sempre a grande attenzione per quelli che sono i disturbi respiratori del sonno. I disturbi respiratori del sonno ovviamente hanno le apneostruttive come una patologia tra le più diffuse su questo tema. L'Aipo si interessa e ha recentemente anche sviluppato un censimento per identificare quelle che erano le forze in realtà disponibili per approcciare un problema di così ampia diffusione. Si sono potuti censire circa 200 centri che si dedicano al tipo di problema, abbiamo visto quelle che sono le ore sia dei medici che del personale tecnico-infermieristico disponibile per poter approcciare il problema. Quello che attualmente si sta facendo è cercare di sviluppare dei percorsi sempre più sostenibili che permettono di diagnosticare, avviare al trattamento ed eseguire il controllo nel tempo per quelle che sono le pratiche terapeutiche necessarie per dare delle risposte a questo tipo di problema. È una patologia dall'epidemiologia realmente impressionante. Abbiamo dei dati recenti che indicano come addirittura metà della popolazione adulta di sesso maschile e circa un quarto di quella di genere femminile siano affette dalla patologia. Ovviamente abbiamo diversi gradi di severità della patologia rappresentati. Fino adesso si è fondamentalmente parlato di quella che era la punta dell'iceberg, ossia di quelle forme che presentavano le caratteristiche più marcate della sindrome. Quando oramai erano già presenti anche quelle che sono le grandi comorbidità, tutte quelle patologie che tendono a svilupparsi e associarsi alle apnee nel sonno. Ed è proprio per questo che si sta pensando di riuscire a lanciare delle campagne per identificare questa enorme massa della popolazione, la quale presenta la patologia senza tutte le complicanze già presenti per riuscire a prevenire il loro sviluppo. Tenete conto che si stima che in Italia almeno sei milioni di persone sono portatori della patologia, di questi circa un milione e sette presentano la forma in modo abbastanza eclatante e in realtà a tutt'oggi non sono stati che identificati più di 200.000 soggetti. Lo strumento più utile per porre diagnosi della patologia è il monitoraggio cardiorespiratorio. Frequentemente parliamo di polisonografie che è sicuramente uno strumento che può darci ancora maggiori informazioni ma sicuramente meno duttile di quanto non lo sia quest'ultimo. Il monitoraggio cardiorespiratorio è uno strumento che viene utilizzato tantissimo a domicilio del paziente, permette un approccio legato a una presentazione del paziente in ambulatorio dove lo strumento viene posizionato dove ritorna l'indomani mattina e attraverso i dati registrati e memorizzati allo strumento viene posta una diagnosi assolutamente corretta. Ha inizio l'avvio al percorso terapeutico, terapie che possono essere di varia natura ovviamente. Quella che sappiamo ad oggi riuscire a dare risposta alla maggior parte dei pazienti è la pressione positiva applicata alle vie aeree e somministrata per via nasale. Detta CPAP non è sicuramente il trattamento unico, stanno sviluppando sempre più altri tipi di trattamenti, pensiamo ai protrusori mandibolare, dei semplici strumenti che vengono posizionati all'interno del cavo orale quando si va a dormire e che protrudono, spingono in avanti la mandibola permettendo di aumentare lo spazio aereo, piuttosto che in alcuni casi molto accuratamente selezionati alcuni interventi chirurgici che possono essere anche quelli a volte risolutori del problema. Tutto questo ovviamente scaturisce da un'accurata e attenta analisi e dalla personalizzazione di quello che deve essere l'approccio e il percorso da seguire. Qualcosa che andrà sempre fatto in qualsiasi caso sarà seguire l'evoluzione della patologia nel tempo, seguire l'efficacia nel tempo di quello che è il trattamento messo in atto, sia che questo sia una C-PAP, sia che questo sia un protrusore, sia che questo sia un trattamento chirurgico. Accanto a questo ovviamente esistono poi tante altre piccoli tipi di accorgimento importanti tra cui da non dimenticare lo stile di vita, le abitudini alimentare e quello che può essere una riduzione ponderale. Spesso si diceva che era la patologia dell'obeso, abbiamo visto che questo non è assolutamente vero, la maggior parte dei soggetti affetti alla patologia non sono assolutamente obesi, però è anche vero che un aumento di peso anche in un soggetto assolutamente normopeso può determinare quell'elemento in più, quindi quella goccia che fa raggiungere quella criticità che porta allo sviluppo della patologia. Seguire nel tempo quali sono le tempistiche? Dopo andare controllando i pazienti all'incirco una volta all'anno per verificare che tutto proceda bene, il che non significa ripetere esami una volta all'anno, ma verificare la clinica e quello che è l'evoluzione della patologia. Proprio quest'anno è entrata in vigore la nuova normativa riguardante l'idoneità alla patente di guida per i soggetti affetti da apnea ostruttiva nel sonno. È stata una normativa abbastanza snella quella che è stata sviluppata, ma che necessita di essere ben compresa nei suoi contenuti. È una normativa in cui si specifica quali sono i pazienti affetti da apnea ostruttiva nel sonno che presentano delle limitazioni alla guida. Viene ben specificato come non è sufficiente essere affetti da apnea ostruttiva nel sonno di grado moderato grave, quindi almeno 15 apnea per ora di sonno, ma è necessario per avere questa riduzione della capacità o di idoneità alla guida che questa sia associata a una sonnolenza definita come incoercibile. Sostanzialmente si tratta di soggetti quali hanno apnea ostruttiva nel sonno associate alla propensione ad addormentarsi in quelle che sono delle condizioni meno consuete, meno abituali per questo tipo di stato. Qual è l'interpretazione che a volte abbiamo visto è stata data? È stata quella che se il soggetto è affetto dalle apnee automaticamente deve finire in un circuito che rende molto difficoltoso a poter condurre le sue normali attività. Ricordiamo come dei soggetti affetti da apnea ostruttiva nel sonno di grado grave, quindi che abbiano più di 30 apnee per ora di sonno, solo un terzo presenta la sonnolenza che abbia delle caratteristiche patologiche. Quindi in realtà come sia minoritaria tra i soggetti affetti dalla patologia, quelli che presentano effettivamente quella che è una importante limitazione alla guida e che è giusto che vengano correttamente identificati perché questo è un modo per poter garantire la sicurezza sulla strada del paziente, dei suoi familiari e di tutta la comunità. Però ricordiamo bene un punto, non è il volere perseguire chi ne ha affetto, è il volere dare la comprensione del problema e fare capire come curandosi correttamente si può essere idonei a guidare, a fare qualsiasi lavoro in modo efficiente e sicuro.